La Direzione Investigativa Antimafia di Reggio Calabria, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha eseguito un decreto di sequestro emesso dal locale tribunale nei confronti del detenuto Giovinazzo Girolamo, 45 anni, di Città Nova, detto Jimmy, ritenuto organico alla Cosca Raso Gullace Albanese di Città Nova, a cui risulta legato anche a vincoli di parentela, avendo sposato Politi Francesca, nipote del defunto capo Cosca Raso Girolamo. Il Giovinazzo, unitamente alla moglie e ad altri 40 soggetti, nel luglio del 2016 è stato colpito da un provvedimento restrittivo emesso dal GIP nell'ambito dell'operazione alchemia della Procura Distrittuale Antimafia Regina. Le indagini avevano consentito di evidenziare il grande interesse degli appartenenti alle citate consulterie dell'Andrangheta verso diversi settori strategici, quali il movimento terra, l'edilizia, l'import-export e poi ancora la gestione di sale giochi e di piattaforme di scommesse online, la lavorazione dei marmi, autotrasporti, smaltimento e trasporto di rifiuti speciali. In tale contesto criminale il ruolo del Giovinazzo era quello di portavoce, uomo di fiducia di Raso Girolamo. Giovinazzo, tuttora incensurato, nonostante i numerosi procedimenti penali avviati nei suoi confronti, anche in altre vicende giudiziarie, era sostanzialmente ritenuto il volto pulito della Cosca e per questo motivo intestatario e titolare di numerose attività imprenditoriali. L'ordinanza restrittiva dell'operazione Alchimia è stata confermata anche nei successivi gradi di giudizio cautelare e in relazione ai fatti contestati il Giovinazzo è stato rinviato a giudizio nel luglio 2017. Con l'odierno provvedimento è stato sequestrato un consistente asset immobiliare e immobiliare riconducibile a beni aziendali e personali, costituito da otto società per l'intero capitale sociale e l'intero patrimonio aziendale, con sede tra Città Nova, Roma e Pomezia, operanti nei settori turistico alberghiero, ristorazione, agricolo, lavorazione del legname, trasporto e rifiuti. Tra di esse è anche la nota struttura alberghiera di lusso, Uliveto Principessa Parco Hotel di Città Nova. 16 terreni ubicati a Città Nova per un'estensione complessiva di oltre 13 ettari e due capannoni a uso industriale per una superficie complessiva di circa 3.000 metri quadrati. E ancora disponibilità finanziarie e titoli comunitari riconducibili al Giovinazzo, alla moglie e ai loro figli. Il valore complessivo dei beni sottoposti a sequestro è stimato in circa 22 milioni di euro.